Ciao sono tornata, prendo questo Ciao Leopoldina come stai? Ma sei sicura? Piccoli dittatori crescono? Qualche problema in merito? No assolutamente no Leopoldina, guarda sono 19 euro Pago con 18 app Ma tu non hai 18 anni, dove l'hai presa sta 18 app? L'ho presa dal tizio a cui ho svitato la testa qui fuori Mi piacciono le persone silenziose come te, vivono a lungo Grazie a tutti